L'ha già perso 1.300 euro L'ha già perso 1.300 euro Corra, corre, un'emergenza, dottore! Un'emergenza! Emergenza? C'è solo un'emergenza La catena ci prodasso L'ha già perso 1.300 euro Per chi? L'ha già perso 1.300 euro L'ha già perso 1.300 euro L'ha già perso 1.300 euro a diversi 1.300 euro a diversi 1.300 euro tu parli di questo che è il mio padre a diversi 1.300 euro ci vedo qua per chi? per di Manchester di merda papi